buongiorno allora lunedì oggi è 17 aprile sono le 7 e 55 45 ore sono scattate da 4 minuti quindi siamo pronti per metterci in movimento allora eccoci qua siamo in viaggio allora oggi il programma è questo adesso andiamo a carica un carico completo ad esanatolia nell'entroterra delle province tra le province di macerata e ancora andiamo a carica lì per destinazione se non erro sesto fiorentino dopo di che una volta scaricato sesto fiorentino se non è cambiato il programma quello che mi hanno detto mi sposterò verso mantova dove domani ricaricherò un viaggio di ritorno quindi diciamo che come come programma non è niente impegnativo niente particolarmente complicato perché all'andata è un carico completo al ritorno dovrebbe essere lo stesso un carico completo al massimo due consegne allora adesso andiamo qui con la statale 77 fino a tolentino e poi dopo da qui si esce e si fa un po' dei statali normali non a quattro qualsiasi oggi rifaccio un giro che a me piace tanto a me andai sanatoia la strada be sanatoia piace tanto perché era una delle zone che facevo spesso quando facevo il vecchio lavoro con la matrice e poi da lì faccio una strada la statale 76 che praticamente da da favriano cioè da ancona sale a favriano fino in umbria passa per fabrica è una bella statale è stata da ultimata di recente c'è rimasto solo un pezzo lì a favriano da finire ultima va bene dai facciamoci sto pezzo di strada adesso vi faccio guardare un po' di strada un po' di panorama e io guido un po' di panorama e io guido Grazie a tutti. 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 26 pedane miste tra Apple e fuori misura e adesso ce ne andiamo verso la Toscana. Usciamo qui dalla zona industriale di Sanatoglia, vado giù a Matelica e vado verso Favriano che vado su. C'ho all'attivo 1 ora e 53 di guida, quindi 2 ore e 37 prima di fare la pausa, che cascherà precisa per l'ora di pranzo. Quindi oggi proprio va tutto secondo il programma che avevo fatto. Ora vediamo dove ci fermiamo, intanto andiamo via dal porto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. 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 Eccoci qua. Ciao. 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 Ci siamo, scaricato, ripreso un po' di Ebball che dovevo riprendere, che c'era scritto in bolla, alle 15.47 e adesso ce ne andammo verso Mantua, adesso ribiamo l'autostrada qui a Calenzano. Grazie a tutti. Oggi ragazzi faccio per la prima volta la panoramica col camion, questo è il grande Luca Mazzi, dice sempre che è spettacolare, in omaggio a Luca ci facciamo un giro sulla panoramica col Fordone, vai! Grazie a tutti. 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 alla fine quando ho fatto 8 ore qualcosa di guida sto stato dentro le 12 ore di impegno 8 ore e 22 quindi va bene dai ci aggiornavo più tardi va ora chiudo la giornata qua